bentornati ragazzi e bentornati su fortnite oggi andremo a vedere come trovare la lettera n nascosta nella schermata di caricamento ultime notizie che fa parte delle sfide del duello per poter trovare la n dovremmo recarci in questa base militare e semplicemente andarla a raccogliere vicino ai barili gialli che andremo a trovare appunto occhio ai nemici come sempre intanto vi ricordo il like al video e se vi va e vi fa piacere soprattutto iscrivetevi anche al canale ecco qua la n sopra i bidoni come avevamo detto bene anche per oggi è tutto noi intanto prendiamo la n e ci vediamo alla prossima ciao ragazzi